Non abbiamo deciso di non decidere, abbiamo aperto la discussione sul piano di recupero urbanistico di Via Alto Adige e avendo un parere legale che chiaramente dice che non ci sono rischi dal punto di vista giuridico a portare avanti la discussione ancora qualche giorno per consentire ai partiti della maggioranza di fare gli approfondimenti che servono loro per poter dare un consenso oppure no, abbiamo ritenuto di accogliere questa richiesta e di decidere nei prossimi giorni. Avrei preferito decidere oggi perché è giusto dare delle risposte quando il privato se le aspetta però è anche comprensibile che politicamente chi vuole approfondire abbia la possibilità di farlo. Temo che il privato perda la pazienza? Sì, però se perde la pazienza e mi può fare causa e ottenere un risarcimento danni avrei già deciso. Siccome i pareri dei nostri giuristici dicono che siamo ancora all'interno del tempo massimo allora ho accettato di poter ancora fare questo breve rinvio perché confido di poter decidere veramente a breve.